Vedete, sono morbidissimi, sono cotti, come piace a noi ragazzi, bella, saporita, te l'infranca, te l'inguora! Se vi fate questa ricetta, fate la capriola sugli anelli come gli uricchiechi oggi, vi prometto, quindi vi faccio un bello spaghetto con totani in bloccoletti, e sì, ci devo mettere una carta di pecorino! Ingredienti, totani, no freschi, di più, freschissimi, poi aglio, spaghetto numero 3 di liquori, pecorino, non cominciare a dire pecorino rosso fresce, date letta a me, insomma, inveterete, poi, broccoletti, a Roma si chiamano broccoletti, voi ci metti i rapa, friarelli, fate come volete voi, questi da noi si chiamano broccoletti, olio, extravergine amico mio, l'Igari, e poi peperoncino, quello nostro congelato, poi tiramolo fuori. Iniziamo subito da che cosa? Da che? Dei broccoletti, vi faccio vedere come si capono i broccoletti, eccoli qua. Allora vi dico soltanto una cosa, stamattina quando sono arrivato al mercato, c'avevo tutta un'idea mia della ricetta da fare, poi ho visto questi broccoletti, si muovevano, facevo la ola, ho detto guarda queste cose sono mie, devo fare qualcosa. Allora vi faccio vedere, vando alle ciance, alle ghiacchiere, che faccio? Levo la parte un po' più dura, no? Più dura, e queste per me sono le parti migliori, guardate questi qua, i ciccetti, questa qua, guarda qui, camera 1 in quadra, questa qua è fantastica. Poi che faccio? Dato che è un po' troppo grossa, vedete? Io faccio così, la crocetta, ricordate il coltellino da 3 euro che dovete andare a casa? E' questo, poi continuo, guardate, così, tiro, vedi la sfibro un pochettino, in questa maniera, vai, così, tiro, vedete come faccio? Così, così è tutto tenero, sei proprio squaglia in bocca. Questa pasta dovrebbe essere una grandissima alternativa alle solite paste, alla pasta con le vongole, alla pasta con i scampi, che tutti si riempiono la bocca, mi sono mangiato gli scampi, mi sono mangiato quello, mi sono mangiato quell'altro, ma realmente le cose buone sono quelle più fresche, quindi, non andate, non vi incaponite, non fate come ho fatto io stamattina, che sono andato al mercato, volevo fare tutta un'altra cosa, poi però, ho visto la roba fresca, ho detto che qua, quella compro, perché così faccio più bella figura, metto dentro l'acqua, così, intanto si cominciano a cuocere, acqua in piena ebollizione e una manciatella di sale, senza il coperchio, il coperchio non ci deve essere, perché? Perché così mantengono un bel colore, guardate, belli così, guardate che colori, così a noi ci piacciono. Oggi ho detto cede, le sono messe le scarpe, non si poteva stare, con l'infrodito oggi non si poteva stare. Questa mattina c'erano 5 gradi qui a Roma, quando mi sono allenato mi venivano installattiti sul naso. Quanto tempo devono cuocere? Le faccio capire io come si cuoce. Allora, voi prendete la parte più cicciotta, vedete questo qua, guardate, e sentite, fino a quando diventa morbido, ancora è bello duretto, ancora deve cuocere un pochettino, però noi non stiamo con le mani in mano, ve lo prometto. Totani, guardate che sono belli, vivi, erano vivi, guardate i colori, vedete i colori quanto è bello marroncino, più è vivo il colore, più è fresco, guardate che bel totano, piccoli l'ho presi, perché così sono più teneri, questi se vi fate i fritti, altro che calamari, questi si sciolgono, è una cosa spettacolare. Vi faccio vedere come si puliscono, prendo una forbice, taglio così, tanto li possiamo anche aprire, non li dobbiamo fare ripieni, quindi dobbiamo stare attenti a tenere la parte superiore integra. Quindi tolgo l'interno, tolgo questa qua che sabbia, poi che faccio? Taglio qui per far uscire gli occhi, così, eccolo qua, e a me questa parte qua è callosetta, mi fa impazzire, levo il dentino, vedete il dentino, poi da qua lo posso togliere, eccolo qua, tolgo quest'altra pezzettino qui che è l'intestino, che ne sono tra il cervello? Non lo so, dico che sono tanto intelligenti, allora sciacquadina, ecco qua, ecco qua il totano pronto, io però c'ho l'amico capatore, che succede? Quindi voi con un euro, con un piccolo euro, fate l'occhietto, arrivo via, e lui ve lo capa, come dice la Roma. Questi sono quelli che mi ha fatto il capatore, vedete? Tutti belli, perfetti, quello è il Maniaco, quello è in Serial Killer, vedi? Ha lasciato i prodotti interi, perfetti, guardate. Controlliamo un attimino, vedete? Si comincia a rompere, non li voglio proprio sfatti, ok? Quindi da avere la loro consistenza, guardate il colore, guarda Camera Woman, guarda i colori, che bello. Proviamo un Natalizio, questa qua io vogliamo farla, la vigilia, per questo facciamo la vigilia, no. A Capodanno, a Capodanno, vi comprate adesso i totani, belli, già puliti, e ve li mettete e ve li congelate, poi li tirate fuori per il 31, così li avete pagati, il giusto, oggi costavano, mi sembra 15 o 20 euro, mi sembra costavano al chilo, i broccoletti a Roma, questi qua belli, prima qualità, costavano 2 euro al chilo oggi. Gli uccellini che cantano, sembra primavera, si sta una meraviglia, fra un po' scende il babbola dalla Befana, e ancora stiamo qua a mani di corte, Roma è veramente una meraviglia. Ultimi totani fatti, eh? Aglio, di quello buono, che piace a noi, italiano. Allora, c'è sta macchiolina, se io vado a paragonare quest'aglio macchiato, lo vado a annusare, ha un odore diverso. Una volta, in una cena importante, lasciai, lo stesso usai un aglio così, e mi ha rovinato una salsa, perché si sentiva proprio il sapore, il gusto di forte. Quindi, attenzione, non sottolineate queste cose, sono piccoli dettagli, ma i dettagli poi, alla fine, fanno la differenza. Tutti, guardi, tutto insieme di dettagli. Questo io non lo uso, uso questo qua, bello, pulito, bianco. Ecco qua, mettono la wok, aggiungo l'olio, dei miei amici ligari, siciliani, eccoli qua. Ciao Domenica, appena finisce tutto, vengo a trovare in Sicilia. Accendo, e adesso il rito, il rito qual è? Si beve. Mamma mia, c'è la scarlattina a sto bicchiere, guardate, ho tutte bollicine di ghiaccio. Questo si attacca così, giac. Questo è il non filtrato, è il val dell'uovo. Mi piace da morire questo qua. Ha un gusto molto rustico, molto... Oddio, si è a scoggiaprire. Ecco, ce lo faccio. Questo rifermenta di nuovo dentro proprio alla bottiglia. Infatti, ci sono dei sedimenti sul fondo. Guardate, vedete, guardate, vedete come si muove? Alla nostra, sempre. Oddio, così non riesco a prendere. Sfidiamo. Questo serve proprio quando ho l'antiderente, per non fare i graffi nelle padelle o nelle pentole antiderenti. Così vado direttamente. Ecco qua. L'aglio è quasi pronto, è pronto anzi. Levo. Butto i totani. Siete pronti agli schizzi? Dai. Ormai fanno le gare a casa, è vero? Così li lascio. Sono talmente piccoli che non mi metto a tagliarli. Lo schizzo ha preso il camera woman. C'è la tuta, c'è. Piano piano, una volta, guarda. Così. Così non si abbassa il carriere della padella. Così. Sì, guarda. Che magia, ragazzi. Che bello, ragazzi. Ma sai che faccio? Io ce li metto tutti. Tanto non fanno male. Guarda che colore. Questi già sono buoni. Siete un po' il salto. Siete un po' il salto. Aprivi un po'. Il camera woman, ho schizzato tutto l'olio addosso, voraggia. Allora, guarda qui. Vi ricordate che ho fatto? Pevroncini congelati. Li conservo così. Prendiamo uno già che l'avamo iniziato, continuiamo a grattare questo. Lo sprechiamo gli altri. Così, quando li trovate freschi, che non si trovano sempre freschi, già ve l'ho detto, ha le penne alla rabbiata, andate a vedere. Li conservate così, così c'è sempre peroncino speciale. Grattugia. Bello piccante. Tiè, vai. Sfumiamo un goccetto proprio di vino. così puliamo bene tutta la padella. Ce l'abbiamo sempre bella pulita e lucida. E adesso uno spaghetto. Lo spaghetto numero tre. Questo vedi cuori, che è fantastico. Che proprio acchiappa la salsa, vi vedo? Acchiappa proprio, abbraccia. Per me il camera woman, mezzo pacco, ma andà bene, no? Quanto questa Mario non sarebbe a mangiarla. L'ho messa nell'acqua proprio dei broccoletti, così questi qua, già si cominciano a ambientare. cominciano già a capire dove da non andare. Qua sento profumo dei broccoletti. E ora fra un po' andrò dal totano. Prendo i broccoletti, belli fumanti ancora, gli do a qualcuno un po' la tagliata, così. Ecco qui, così. E un po' lasciamo le foglie intere, no? Questi qua sono belli a pezzettoni così, che li senti sotto i denti. Però troppo grossi no, capito? Le foglie non le taglio, le taglio soltanto i gambi, vedete? Le foglie tengo così. Prendo un goccino d'acqua e aggiungo qua i totami. E adesso li tolgo fuori dal fuoco, fuori dal fuoco, non si vanno più cuoci perché sono morbidissimi, sono cotti, nemmeno 5 minuti sul fuoco, sono perfetti, guardate. Vi faccio vedere una cosa, guardate quanto sono morbidi, prendo quello più grande, si buca con facilità. Controlliamo la pasta. Vedete? è ancora bella, è al dente, già si vede ad occhio nuto. C'è una bella anima. Sono mastigato. Quindi, vi metto sul fuoco la wok con i totani. Bella umida, vedete? Bella bagnata. Così. Qua ci sta tutto il buono, il succo dei totani, proprio il liquido di cottura. Così, guardate, puliamo anche la patella, guardate, la wok è pulita, talmente l'abbiamo cotti bene, non l'abbiamo fatti attaccare, li abbiamo lasciati umidi, che la patella pure è bella, tutta quanta pulita, non ci sono incrustazioni, non è quella roba che si secca per troppo calore. Guardate il colore della pasta, sta diventando rossiccia. Aggiungo, è arrivato il momento, i broccoletti. Mamma mia ragazzi, mi sto sentendo male. Un po' d'acqua di cottura, guardate, guardate il colore dell'acqua, è verde. non dovete avere paura, piano piano, un po' d'acqua alla volta, attenzione, perché poi se ne mettete tanto, ci vuole tanto tempo per farla asciugare e poi rischiamo che si scuocia la pasta, quindi un pochino alla volta, senza esagerare. Sentite, però ancora ora, un goccetto d'olio che fa sempre bene, ecco qua, così. un po' di sale, un altro po' di peperoncino, come piace a noi ragazzi, bella, saporita. Guardate che cremetta, guardate qua, avete visto l'olio che ci ho messo? Però guardate, ancora c'è un po' d'acquetta, ora facciamo bene asciugare, diventa proprio una cremetta. qualcuno mi ha chiesto, ci insegna la mantecatura? Adesso a due dettagli e fastidio, così la scuotete forte, così facciamo emulsionare i grassi, l'olio extravergine, con l'acqua di cottura della pasta e così mano a mano diventa una cremetta. Non troverete più nessun grasso. Quando è un'ottima mantecatura, che succede? Che non c'è più sul fondo del piatto, quando mangerete non ci deve essere olio, tracce di olio. Ecco qua, ci siamo. e ora è il colpo di grazia, ragazzi. Già lo so qualcuno, ma è pecorino! Provatelo, provatelo. Fuoco spento, fuoco spento, pecorino romano. Vai, così, proprio una spolverata, una nevicadella. Mamma mia. lo sentite? È lui? È lui, sì. Il suono è quello, ragazzi. te l'infranca, te l'incuora. Scegliamo il piatto. Ecco qua. Questo mi piace, dai. una bella porzione, non fanno i nidini, le cosette, qua si deve mangiare. Famo queste, le porzioncine. A casa Mariola si magna, non si fa finta. adesso che li fanno finta, che mangiano, buono, buono. E mangro niente. Quase magna. Se venite qua, quasi magna. Totani, eccoli qua. Se ci mettete broccoletto, che te lo dico a fa'. Eccolo qui. Così. Ah, scusa. Perfetto. Siamo sotto Natale, che fai? Così, una bottarella gliela dai? Assaggiamo, ti prende tutto, i broccoletti, tutto, il totano. Abbiamo messo l'arrivo apposta, lo vedete perché? Se io vado a là, mi vado a buttare su. Ragazzi, una bontà assoluta, l'amarogno del broccoletto, il dolce del totano, poi sto veroncino leggermente piccante. E' pornografico. Alla salute, buon Natale, buone feste ragazzi da Casa Mario, da tutti quanti, da Camera Vuma, da Mariuccio, da tutti quanti. Che buoni, mamma mia. Una buonissima ricetta di pesce con due spicci, altro che scampi e gamberoni. Mi raccomando, likeate, commentate, iscrivetevi, fate volete volete.